Ho cercato di tracciare, seppur in sintesi, quello che secondo me è lo schema di lavoro. Continuare con testi unici che rendano la regione più semplice dall'essere compresa e per gli operatori più facile da capire cosa si può fare e dove e come. Realizzare l'ultimo miglio sulle grandissime infrastrutture che abbiamo in cantiere, prima tra tutti la Ferrovia Pescara-Roma. Decidere bene dove allocare i fondi della nuova programmazione europea centinaia e centinaia di milioni di euro a disposizione per lo sviluppo e spenderli il più velocemente possibile.